Nuovi contatori 2.0 per evitare gli aumenti della luce. Estra e Synapsi, prima in Italia, hanno avviato la sperimentazione degli avanzati dispositivi digitali per il controllo in tempo reale dei consumi elettrici. Estra è lo sponsor dei campionati studenteschi di Arezzo, Pistoia e Prato. I campionati interessano nelle tre province più di 22.000 ragazzi di media inferiori e superiori, impegnati in 43 discipline sportive e 334 gare. Piceno Gas Vendita, integrata sempre più in EstraEnergie. L'accordo per la cessione del ramo d'azienda consente a Piceno Gas di attivare anche la fornitura di energia elettrica. L'ufficio mobile di Estra a Camucia, il camper che funziona come un normale sportello al pubblico su quattro ruote, ogni giovedì mattina è nella piazza del mercato della frazione di Cortona. L'ufficio mobile di Estra a Camucia, il camper che funziona a Piceno Gas di attivare anche la